Quando l'adrenalina mette a rischio la vita, nemmeno il tempo dell'ultimo appello alla prudenza, che subito questa mattina, il soccorso alpino è intervenuto per recuperare un turista neozelandese, che ora si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dopo una descisa in canyoning in Val Bodengo. Secondo le informazioni rilasciate dai soccorritori, l'uomo di 30 anni avrebbe subito numerosi traumi, dopo essersi tuffato in una forra del percorso base Val Bodengo 1. Nonostante il tracciato sia considerato uno dei più semplici, in realtà è tutt'altro da sottovalutare. Non è un caso se gli uomini della settima delegazione Valtirina Val Chiavenna del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino della sezione di Chiavenna siano riusciti a trarre in salvo il ferito soltanto dopo quattro ore. L'allarme è stato lanciato questa mattina alle 9 e l'intervento si è concluso solo alle 13. Il trentenne avrebbe riportato numerose lesioni. La più preoccupante è la schiena. Ragione per la quale è stato trasportato immediatamente in codice rosso all'ospedale Bergamasco, specializzato in questo tipo di cure. Il giovane assicura la direzione medica. È in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.